La nuova Juventus ha concluso a Villarperosa il primo periodo di ritiro collegiale della stagione. 19 giorni di preparazione atletica, passeggiate sui monti, lezioni di tattica e poi le prime partitelle. Un collaudo che l'allenatore Giovanni Trapattoni considera positivo. Tutto sommato le cose procedono abbastanza bene, nonostante settimana scorsa abbiamo avuto un piccolo intoppo, l'incidente di Bettega, tra l'altro causato nel modo più curioso, su uno scherzo con tabelli. Direi che rispetto allo scorso campionato le cose stanno andando decisamente bene, i ragazzi hanno assimilato un po' la mentalità e l'abitudine al tipo di lavoro e mi posso ritenere soddisfatto per questa prima parte. Quanto hanno aggiunto al potenziale della Juventus questi nuovi arrivi, Virdis, Fanna soprattutto? Direi che hanno aggiunto un notevole potenziale, quale innanzitutto la loro capacità tecnica, la loro giovinezza e direi soprattutto la possibilità di dare dei ricambi senza credo, senza creare grossi scompensi in seno alla prima squadra perché quest'anno gli impegni saranno molti e notevoli. Ecco, soprattutto i Virdis, i Fanna, i Verza vengono ad aggiungersi ai Gentile, Tardelli, Scirea eccetera per ringiovanire la Juventus. Ma allora, c'è qualcuno a cui state per dare un trattamento di quiescenza? Si può sapere chi è? Ma io direi che qui siamo in 17 e siamo tutti sullo stesso piano. Sarà la necessità tattica, sarà la necessità dell'avversario o del ruolo che imporrà a queste scelte. Gli uomini nuovi della Juventus, Pietro Virdis e Piero Fanna. Virdis, questo primo periodo di ambientamento, come l'è parso? Si è ambientato bene nella Juventus? Sì, diciamo che avevo qualche difficoltà come inizio. Diciamo che il tempo sta fugando, appunto, questi dubbi che avevo e ora diciamo che le cose procedono abbastanza bene. L'ambientamento sta andando benissimo. Ha dovuto fare sforzi per superare qualche condizionamento psicologico dopo le tempeste di luglio? Diciamo che appunto avevo dei problemi, come avevo detto, questi problemi a poco a poco sono scomparse. Ora diciamo che li ho superati e ora penso solo al futuro, ecco, quello che è stato è stato. Ecco, parliamo di collocazione sua in squadra. Diciamo che logicamente come inizio dovrò aspettare. Diciamo che sono giovane e quindi il futuro è dalla mia. Pensiamo che sono disposto anche a aspettare un po'. Fanna, lei arriva dall'Atalanta. Adesso state davvero facendo la colonia degli atalantini in bianco-nero, eh? Beh, esatto. Perché tra Sirea, Cabrini e me c'è stato come un... più che un gemellaggio tra queste due società che hanno concluso poco tempo fa proprio questa unione, proprio con lealtà. Prospettive per un suo inserimento in squadra. Lei fa tremare l'erba sotto i piedi a Caosio, credo. No, non è vero. Noi siamo amici, ho trovato tutti gli amici bravi che mi hanno aiutato fino adesso. Il tempo spero sarà a mio favore, quindi con tranquillità aspetto e spero. Grazie a tutti.